La prima edizione della Naples Shipping Week con una sessione internazionale sulla normativa riguardante le emissioni del trasporto marittimo alla presenza di Koji Seikimitsu, segretario generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale ed un incontro in cui si è parlato della collaborazione tra porto e città tra innovazione e sviluppo nei paesi mediterranei con particolare attenzione ai waterfront urbano portuali. Noi pensiamo che il mare deve essere uno dei punti fondamentali per il rilancio della nostra città un rilancio in atto ma che tutti i napoletani devono comprendere come il mare possa essere una risorsa a tutto il mondo, di tipo lavorativo, commerciale, caratteristico, turistico. Qualche giorno fa in un incontro ai massimi livelli con il governo italiano e il Ministero della Difesa ho percepito che forse veramente questa volta l'ho fatta. Nel senso che il quarto governo che io cambio da quando succedere, con il quale interlocuisco da quando sono sindaco di Napoli, oggi mi parte di capire che ci sia con la volontà definitiva di riconsegnare alla città di Napoli i messi importanti e fare del nostro porto anche il nuovo e la memoria, l'unico del mare, delle mobilazioni, anche perché noi vogliamo creare un rapporto fisico tra il porto, la città e i suoi cittadini, tra noi da volerare non solo una cartolina, ma la grande opportunità di Lancia, perché uno degli obiettivi sui quali sto e stiamo lavorando è che Napoli deve riconquistare un ruolo internazionale che merita e soprattutto essere tutto di riferimento nel Mediterraneo. Noi sogniamo nel Mediterraneo di pace, di accoglienza, di inclusione e di opportunità di sviluppo economico e di fratellanza precove del nostro Sud. Grazie a tutti.